ma è costante dei pezzi di Michael Jackson che alla fine spesso parlava in sottovoce no? tra serie così adesso sono un po' confidenziale sempre con questa vocina ringrazio Claudia da Taranto perché dice che una volta ha sognato che mi invitava a pranzo a casa sua e ti ringrazio per il pensiero Claudia da Taranto qual è la specialità da Taranto? So che lì si mangia bene punto quindi grazie per l'invito magari un giorno ciao Claudia Master Mixo